Musica Insegnate ai bambini a fare il segno della croce, il Papa ha iniziato un ciclo di catechesi dedicate ai riti della Messa, oltre 5.000 ai fedeli in Aula Paolo VI. Tasse invariate a Santa Margherita Ligure nel 2018, non cambia la Tari nonostante l'estensione della raccolta di fiuti a tutta la città, ma la minoranza non ci crede e in Consiglio vota contro. Approvata in Consiglio Comunale a Sestri Levante la mozione della maggioranza che contrasta la diffusione di gruppi neofascisti, il Comune prepara le tariffe 2018 cercando spazi per eventuali riduzioni. Il Signore dà prova dell'efficacia della preghiera, Messa del Vescovo per la Comunità Promundivita, gruppo di persone che prega per le nuove vocazioni, nessuna opera è impossibile a Dio. In concerto da dieci anni per solidarietà, il gruppo dei Ragazzi dei Frati ha proposto a Sestri Levante una serata di musica tradizionale per sostenere i restauri della chiesa di Santa Maria di Nazareth. Calcio, la Virtus Entella scende in campo domani sera a Frosinone contro una delle squadre più forti del campionato. Mister Aglietti chiede una squadra attenta, concentrata e brava a finalizzare. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi prosegue la riflessione del Papa sulla celebrazione eucaristica. All'udienza di questa mattina si è soffermato sui riti introduttivi della Messa. La notte di Natale, ha detto poi al termine, illumini la vita di tutti e in particolare delle persone sole, dei sofferenti e dei senza tetto. La sintesi nel primo servizio. Non guardare l'orologio, non arrivare in ritardo ma piuttosto in anticipo e insegnare i propri figli a fare il segno della croce. All'udienza generale di questa mattina in aula Paolo VI, il Papa spiega i principali segni per vivere pienamente la Messa e formula alcuni inviti per assaporarne tutta la sua bellezza. Il Santo Padre si sofferma sui riti introduttivi, dall'ingresso del celebrante al saluto alle prime orazioni, perché dice fanno sì che i fedeli riuniti insieme formino una comunità e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio. Ecco perché, sottolinea il Papa, non è una buona abitudine arrivare in ritardo con l'orologio tenuto sotto controllo, bensì arrivare in anticipo per preparare il cuore alla celebrazione. Ed ecco perché è importante far bene il segno della croce, che tutti tracciano, consapevoli che l'atto liturgico si compie nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Papa si sofferma dunque su un argomento che definisce piccolissimo, ma certo di particolare importanza. «Voi avete visto come i bambini fanno il segno della croce? Fanno così. Non sanno cosa fanno. Talle volte così fanno un disegno che non è il segno della croce. Per favore, mamma e papà, nonni insegnati ai bambini, dall'inizio, da piccolini, a fare bene il segno della croce. E spiegarle che avere come protezione la croce di Gesù. E la Messa incomincia col segno della croce». Ora la pagina amministrativa del nostro territorio. Restano invariate le principali imposte di Santa Margherita Ligure per il 2018. Le aliquote sono state approvate nell'ultimo Consiglio Comunale. Nei primi mesi del prossimo anno intanto, il nuovo servizio di raccolta rifiuti sarà esteso a tutta la città. Sentiamo. Lavori pubblici per milioni di euro e tasse comunali invariate. In sintesi è l'immagine del 2018 per Santa Margherita Ligure. In Consiglio Comunale sono state approvate dalla maggioranza le aliquote per il prossimo anno. IMU invariata, Tasi mantenuta zero e Tari diminuita di un minimo ma di fatto immutata. Questo ha spiegato il Sindaco nonostante l'estensione, nei primi mesi del 2018, del nuovo servizio di raccolta rifiuti a tutta la città. Servirà del tempo per l'acquisto delle dotazioni dei materiali e per la campagna di informazione, ha detto Paolo Donadoni, dopodiché saremo pronti a partire. Per coprire le spese verrà usato il risparmio di gestione 2017, per questo la Tari non aumenterà. Ma la minoranza non ci crede, staremo a vedere, dice Andrea Bernardin. Il voto dell'opposizione è stato così di astensione per l'IMU, favorevole per la Tasi, e appunto contrario per la Tari. Intanto il prossimo anno è atteso a Santa Margherita Ligure anche per i numerosi interventi programmati. Entro fine dicembre il Comune deve chiudere almeno 14 bandi di gara per l'avvio di altrettanti lavori, questo per salvare i cosiddetti spazi finanziari, ossia la possibilità concessa da Regione e Stato di utilizzare l'avanzo di bilancio. Alcuni sono già stati chiusi, altri lo saranno entro lo scadere del mese. Nel 2018 così potranno partire lavori a scuole, strade, ai moli delle spiagge, oltre a interventi di restauro, come quello che interesserà Villa Durazzo e che sarà presentato venerdì 22 alle 16 nei locali dell'Associazione Spazio Aperto di Via dell'Arco. Poi opere di risparmio energetico, di risoluzione del dissesto idrogeologico e altri interventi di protezione civile. I primi a partire a metà gennaio saranno i lavori ai marciapiedi alla pavimentazione di Via Cervetti Vignolo e Via Gimelli. Secondo il consigliere di minoranza Bernardin, però, mentre Rapallo è stata lesta a conseguire l'apertura degli spazi finanziari, Santa Margherita Ligure rincorre, commettendo errori o lacune, come la mancata ristrutturazione del Palazzetto dello Sport. Questa mattina la Rapallo Nuoto ha presentato in comune una proposta di ristrutturazione della piscina del Poggiolino. La società sportiva è mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, del quale fanno parte anche Piscine Termoil, Tassistro Giambruno, Autotorri Marchetti e Campodoni SRL. L'idea riguarda l'affidamento della concessione per la progettazione e l'avvio dei lavori con successiva gestione del polo natatorio. Ci stavamo lavorando da tempo, spiega il presidente della Rapallo Nuoto Alessandro Martini. Speriamo che questa proposta possa essere ritenuta dall'amministrazione di interesse pubblico, così da iniziare il prima possibile litter burocratico che porterà i rappallesi e le società sportive ad avere una piscina rinnovata. E prosegue il cammino verso il nuovo sistema di accoglienza e mobilità per i pullman turistici nella Tigulia occidentale. Di recente si sono svolti due incontri per condividere idee e progetti. Il nuovo sistema potrebbe infatti determinare conseguenze anche sul casello autostradale di Recco e sul collegamento tra i comuni di Recco, Santa Margherita Ligure e Camogli. Al tavolo dunque, oltre alle amministrazioni di Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo, c'erano anche i rappresentanti di Camogli e Recco. La collaborazione dunque su questo tema si allarga. A inizio gennaio è stato fissato un nuovo incontro per verificare il progetto che ATP sta redigendo in base alle indicazioni dei comuni. Riunione di fine anno per il Consiglio Comunale di Sestri-Levante con diverse pratiche all'ordine del giorno, tra cui una variazione di bilancio, due regolamenti sovracomunali e la proroga dei termini per il rimborso del prestito ad ATP. Ma c'è stato spazio anche per una discussione di carattere più strettamente politico, scaturita da una mozione volta a contrastare eventuali manifestazioni di stampo neofascista. Sentiamo. Sì alla mozione discussa in Consiglio Comunale a Sestri-Levante, presentata dai gruppi consigliari di maggioranza, che impegna a non concedere sedi e spazi pubblici a movimenti ed organizzazioni che si rifacciano al fascismo e al nazismo. Il documento, approvato con i soli voti della maggioranza, chiede a tutti coloro che richiederanno spazi di rispettare la Costituzione e le leggi vigenti. Un atto, secondo la sindaca Valentina Ghio, che va nella giusta direzione perché vuole confermare la forte radice democratica ed antifascista di Sestri-Levante. I gruppi di minoranza hanno espresso perplessità. Astenuto il Movimento 5 Stelle, contrari se gesta domani, hanno abbandonato l'aula durante la discussione Lega Nord e Popolo per Sestri. Perché? Ha spiegato Marco Conti. La mozione si presta a strumentalizzazioni ideologiche, rischia di limitare la libertà di pensiero e le leggi ci sono già, basta farle rispettare. Presente in aula una delegazione dell'AMPI. Nel corso della riunione del Consiglio Comunale sono state approvate le modifiche al regolamento del gruppo intercomunale antincendio boschivo, che garantisce un rilancio dell'attività. È stato prorogato il termine per il rimborso da parte di ATP del prestito ricevuto dai comuni azionisti due anni fa. È stato dato il via libera alla Convenzione per la gestione associata del servizio di informazione ed accoglienza turistica, di cui entra a far parte anche Castiglione Chiavarese. Ed è stato approvato l'atto di indirizzo per il conferimento della cittadinanza onoraria a Vito Molinari. Il tutto mentre in Comune si stanno facendo i conti per arrivare alla fine di gennaio ad approvare tariffe di imposte per il nuovo anno. La legge consente di approvare il bilancio entro la fine di febbraio. Secondo gli intendimenti dell'amministrazione comunale non dovrebbero esserci ritocchi all'insu, anzi si stanno cercando spazi per eventuali riduzioni, ma occorre tenere in debita considerazione anche i costi della recente mareggiata e degli interventi di ripristino del litorale che non sono stati ancora quantificati. Domani pomeriggio è in programma a Genova Il Tavolo sulle ludopatie. Le associazioni che da anni combattono contro la dipendenza dal gioco non ci saranno. Nei giorni scorsi avevano spiegato che secondo loro la legge numero 17 del 2012 non va modificata ma anzi applicata subito. Leggo con sorpresa che le associazioni non parteciperanno, dice oggi l'assessore regionale Sonia Viale, che aggiunge, spero ci ripensino. In queste settimane sono arrivate diverse proposte che vorrei esaminassimo insieme per arrivare a gennaio ad una posizione condivisa da confrontare, conclude la Viale, con quella che emergerà dal tavolo che riunisce i soggetti del mondo del commercio. Andiamo a Zoagli. Un'interpellanza sui disservizi da parte dei principali gestori di posta è stata presentata questa mattina dal gruppo Uniti per Zoagli. Il consigliere Cesare Macciò riferisce di parecchie lamentele dei cittadini rivolte soprattutto a poste italiane e Nexiv, quest'ultima utilizzata dall'amministrazione. Il gruppo chiede una verifica della situazione e di sollecitare Nexiv a trovare un punto di consegna delle raccomandate a Zoagli e non a Rapallo, come avviene adesso, fuori mano per molte persone, soprattutto persone anziane. Siamo all'informazione religiosa del territorio. A pochi giorni dal Natale, oggi la Diocesi ha ricordato il Vescovo che l'ha guidata per molti anni, Monsignor Daniele Ferrari. Nell'undicesimo anniversario della scomparsa, Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato la messa in cattedrale. Nell'Omelia, il pastore della Diocesi ha invitato a superare l'incredulità e a riconoscere l'opera di Dio nella propria vita e nel mondo e ad accogliere Gesù in modo più profondo, soprattutto in questi giorni, di avvicinamento al Natale. Proprio come ha fatto Maria, che ha detto il suo eccomi. Monsignor Ferrari, ha quindi sottolineato il Vescovo, non ha mai mancato di esprimere la sua devozione a Maria e di vedere in lei una madre e un modello. Sia questa, ha concluso, una delle eredità che Monsignor Ferrari ci lascia e che facciamo nostra. Monsignor Ferrari ha sognato e voluto la comunità Promundi Vita, un gruppo di persone che ogni giorno ancora oggi si ritrova in preghiera davanti all'Eucaristia per chiedere il dono di nuove vocazioni. E nella cappella maggiore del seminario, il Vescovo ha incontrato gli aderenti a questa comunità. Nella Messa, Monsignor Tanasini ha spiegato che il Signore dà prova dell'efficacia della preghiera. Sentiamo. Pregare e chiedere l'impossibile a Dio. Nella Messa per la comunità Promundi Vita, il Vescovo si sofferma sul dono inesprimibile dell'Eucaristia, Gesù che si è fatto uomo e che si offre nel segno del pane. Dunque, nessuna opera è impossibile al Signore. Chi si impegna nell'adorazione eucaristica, spiega ancora il Vescovo, sa che a Dio si può chiedere qualunque cosa. La comunità Promundi Vita prega soprattutto per le vocazioni, all'ordine sacro e alla vita consacrata. Per Monsignor Tanasini, Dio dà prova dell'efficacia di questa preghiera. In realtà, non ci lascia privi di vocazioni. E noi dobbiamo anche, da questo punto di vista, non soltanto chiedere uomini nuovi, consacrati, che si offrono per la consacrazione a Dio, ma dobbiamo anche ringraziare del dono che riceviamo. L'adorazione si tiene lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17 nella Cappella Maggiore del Seminario, il giovedì dalle 17 alle 18 in Cattedrale. Tutti possono impegnarsi per un'ora o per mezz'ora di adorazione. I fedeli si ritrovano per pregare nel segno della comunione. Ognuno di noi ha un'ora prestabilita durante la settimana e non sa chi trova. Di conseguenza è più una preghiera personale, perché noi non preghiamo solo per la nostra Chiesa. Io sono terziaria francescana, prego anche per le vocazioni nel terzo ordine. I frutti di questa preghiera, secondo lei, un po' si vedono? Noi tante volte non li vediamo, perché i tempi del Signore non sono i nostri tempi. Però io credo nella potenza della preghiera. Io credo che il Signore ci ascolta sempre e tante volte non ci manda quello che noi chiediamo, ma quello di cui noi abbiamo bisogno. Cambiamo tema. Questa sera vogliamo parlarvi dell'Associazione Medici in Africa, che è nata a Genova e che proprio quest'anno ha compiuto dieci anni. Affronteremo il tema questa sera in Missione Mondo con il medico ginecologo volontario del gruppo Diego Dighiero, che è di Sestri Levante. Ne vediamo un'anticipazione. Medici in Africa nasce a Genova nel 2007. Viene fondata sotto legida dell'Università. Infatti nel Consiglio Direttivo sono presenti i medici che sono anche professori universitari. Nata ben prima come gruppo di persone che avevano vissuto esperienze personali in Africa, l'Associazione diventa onlus e si rivolge a numerosi paesi del continente sub-sahariano. Tra questi Togo, Benen, Capoverde e Senegal, ai quali va aggiunto il Madagascar. A parlarne questa sera in Missione Mondo il medico di Sestri Levante e socio di Medici in Africa Diego Dighiero. Parlare di sanità in Africa, insomma, bisogna resettare un po', no? Il nostro pensiero, che noi siamo abituati a un concetto di welfare, ad esempio, di assistenza, di sanità pubblica e quindi di soluzioni ai nostri problemi. E lì dimentichiamo tutto questo. Quindi si trova altro grande problema, la mancanza di medici. La mancanza di medici. Esattamente, la densità di medici rispetto alla nostra è praticamente ultra. Numericamente, noi parliamo di un medico ogni 30, 25, 30 mila abitanti da quelle parti. Qui abbiamo un medico ogni 300 abitanti. Già queste cose ci indicano così, no? Pertanto la sanità da quelle parti è sulle spalle degli infermieri. L'appuntamento con Missione Mondo questa sera alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15. E oggi è mancato padre Piero Gheddo, missionario giornalista, autore di oltre 100 volumi, reporter in oltre 80 viaggi in numerosi paesi del mondo. Entrò nel Pime nel 1945 e fu ordinato sacerdote nel 1953. Aveva 88 anni. Il Pime è il pontificio istituto missioni estere che conta una sede anche a Genova Nervi. Cambiamo tema, torniamo sul territorio. Si è svolto oggi al Villaggio del Ragazzo il primo dei tre Open Day della formazione professionale. L'offerta formativa proposta dall'Opera Diocesana consente di ottenere qualifiche riconosciute a livello europeo. Siamo andati a vedere. Porte aperte per un giorno al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Le famiglie possono conoscere il percorso formativo per il prossimo ciclo scolastico. I corsi di formazione professionale affidati dalla Regione sono quelli di operatore meccanico, elettrico e operatrice del benessere, area estetica. L'Open Day si svolge oggi fino alle 17. Le famiglie e i ragazzi sono accompagnati dai tutor e dai docenti nei vari laboratori facendo vedere tutte le attività corsuali che abbiamo. Quindi possono vedere i ragazzi all'opera nei laboratori che sono una parte consistente nell'orario settimanale. Quindi i nostri ragazzi lavorano per circa 11 ore nei laboratori su 32 ore settimanali operando individualmente sulle varie esercitazioni proposte dai docenti. Quindi li vedono all'opera. Il Villaggio, fondato da Don Nando Negri, offre una formazione professionale e umana che può poi proseguire secondo diverse strade. Il percorso tennale dà la possibilità, dopo essersi qualificati, di poter frequentare il quarto anno sempre nel sistema IFP oppure proseguire con il sistema duale con un inserimento lavorativo per acquisire poi il diploma di tecnico oppure proseguire nella scuola di Stato per diplomare il ragazzo seguendo una quarta o una quinta della scuola. La disponibilità a visitare il centro di San Salvatore di Cogorno e i suoi laboratori è illimitata nel tempo. È sufficiente infatti contattare la segreteria e richiedere un appuntamento. Il Villaggio del Ragazzo è sempre aperto alle famiglie e ai ragazzi che vogliono visitare le nostre attività tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alla mattina e al pomeriggio. Questo per facilitare anche i ragazzi che sono studenti comunque quindi la mattina sono impegnati nelle attività scolastiche e le famiglie perché tutti i genitori lavorano quindi sono impegnati anche durante la giornata. Regione Liguria ha conquistato altri 7 milioni di euro per la Via dell'Amore la passeggiata a picco sul mare lunga 800 metri tra Rio Maggiore e Manarola nelle Cinque Terre, chiusa dal 2012 per disestro idrogeologico. I fondi arrivano dal capitolo Cultura del Ministero per i beni e le attività culturali e turistiche. Grazie a queste risorse aggiuntive potranno essere realizzati tutti gli interventi di messa in sicurezza del versante indispensabili per la riapertura del sentiero che avverrà entro la primavera del 2021. L'obiettivo è di avviare la progettazione nel 2018 e i lavori entro il 2019. E i dati sul turismo continuano ad essere positivi per la nostra regione. Secondo i dati regionali diffusi questa mattina, nel mese di novembre le strutture ricettive hanno registrato circa 362 mila presenze ossia l'8,59% in più rispetto allo stesso mese del 2016. Cambiamo argomento. I Ragazzi dei Frati, il gruppo di amici che si ritrovava a Sesti Levante al convento dei Frati Cappuccini, da circa dieci anni propone momenti di musica tradizionale e di solidarietà nella memoria viva del comune amico Don Giancarlo Crovetto. Ultimo in ordine di tempo è il concerto di Natale che si è svolto all'Hotel Nettuno con l'obiettivo di raccogliere fondi per la parrocchia di Santa Maria di Nazareth alle prese con un delicato e oneroso intervento di ristrutturazione esterna. Vediamo. Anche quest'anno auguri rinnovati con qualcosa sempre di nuovo. E' certo, c'è la volontà di presentare al nostro pubblico qualcosa sempre di nuovo. Chiaramente ci sono dei pezzi che ormai fanno parte della tradizione e li ripetiamo cercando di dare magari anche un movimento diverso, un ritmo diverso, un'espressione diversa. Comunque tanti pezzi sono già stati fatti. Musica e solidarietà quest'anno a sostegno della chiesa parrocchiale? Ma noi lo facciamo sempre come solidarietà perché già anche in altre occasioni abbiamo fatto sia per i fatti Capuccini, per l'Anfas e adesso per la nostra chiesa parrocchiale è sempre stato anche questo un punto a cui non transigiamo. Fisarmonica, insomma la base è la Fisarmonica. Fisarmonica si è aggiunto Dillo con l'armonica a bocca, abbiamo Piero con la chitarra, Nino è favoloso perché ha uno spirito giovanile al 100% e ci mette tutto l'impegno con la Fisarmonica per cui aiuta molto anche nel coro sicuramente. Nel linguaggio di Sesti Levante la chiesa di Santa Maria di Nazareth è definita la chiesa bianca ma risulta dalle indagini che in realtà non è nata bianca, è nata colorata. Questa decisione di marcare e differentiare la parte più antica dalla parte più nuova, più recente ha comportato un certo confronto tra i tecnici e la soprintendenza, questo ha rallentato i lavori per cui in qualche modo per la popolazione sembra che tutto sia fermo ma è una questione credo di uno o due mesi e poi il lavoro è finito, faremo l'inaugurazione e risentiremo le campane della nostra chiesa. Due comunicazioni di servizio. A Casarza Ligure dalle 21 di questa sera fino alle 7 del mattino di domani, 21 dicembre, saranno possibili sbalzi di pressione e fenomeni di intorbidamento dell'acqua. Questo a causa dei lavori per la prima fase di collegamento con il nuovo bypass idrico a comunicarlo in giornata il sindaco Giovanni Stagnaro, quindi si raccomanda attenzione. E poi il senso unico alternato regolato da semafori sulla provinciale 33 di San Salvatore di Cogorno interessato un tratto di 100 metri nel comune di Carasco. Il provvedimento è stato chiesto dall'impresa Silcap di Genova per effettuare i lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo il fiume Entella. I semafori saranno sempre in funzione sino al prossimo 28 di febbraio. E ora siamo allo sport. Domani sera la Virtus Entella giocherà in esterna contro il Frosinone. Questa mattina la preparazione atletica e la conferenza stampa di Mister Aglietti. Vediamo. Inedita rifinitura del mercoledì per la squadra bianco-celeste. Questa mattina la Virtus Entella ha messo a punto gli ultimi dettagli in vista della trasferta di domani sera a Frosinone. La penultima giornata del girone d'andata di Serie B sarà arbitrata da Marco Serra di Torino. I ragazzi di Mister Aglietti hanno bisogno dei tre punti ma di fronte ci sarà una delle avversarie più temibili del campionato. È la più forte del campionato. Arriva un momento in cui bisogna sapere gestire le vittorie e non siamo stati tanto bravi a gestire la vittoria dopo l'ottima prestazione col Bari perché comunque le due successive potevamo fare di più. Dobbiamo essere bravi a gestire le sconfitte. Quindi nel senso a ripartire con lo stesso entusiasmo, abbiamo la stessa determinazione, la stessa voglia che questa squadra ha avuto nell'ultimo periodo. Sicuramente troviamo una squadra fortissima. In casa non ha mai perso, quindi magari abbiamo anche l'occasione di poter entrare nella storia espugnando per primi il nuovo stadio del Frosinone. È chiaro che per farlo dovremo fare una prestita ottima, eccezionale e avere anche un pizzico di fortuna. Per la partita serale contro il Frosinone, con inizio alle 20.30, Aglietti vuole una squadra più attenta, concentrata e brava a finalizzare. Il nostro campionato deve essere un campionato di battaglia, di intensità, di cattiveria agonistica. Se la caliamo questa cosa qua, così come la concentrazione, prendiamo il gol che abbiamo preso contro la Salernitana, soprattutto il primo, in cui magari c'è stata una disattenzione collettiva che ci è costato il gol e di conseguenza la partita. Quindi non possiamo permetterci di calare la concentrazione a livello di gruppo. Io chiaramente vedo lavorare i ragazzi e sono contento di come lavorano, perché veramente le settimane, quello che facciamo, c'è coinvolgimento da parte di tutti, c'è voglia di uscire da questa situazione, però poi dopo ci sono le partite. Nelle partite bisogna fare e dare tutti qualcosa di più. Siamo agli aspetti culturali, innanzitutto tradizionale scambio degli auguri, questa mattina tra l'amministrazione comunale di Rapallo e i dipendenti dell'ente. A ricordare il significato delle feste è stato Don Stefano Curotto, parroco della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, che ha letto una preghiera del Cardinal Newman, in cui si evidenzia l'importanza di avere fiducia nel proprio posto, compreso il posto di lavoro. Infine sono stati i dati, i riconoscimenti, e i dipendenti comunali andati in pensione nel 2017. Commozione nel momento in cui le figlie di Fabio Franchi hanno ritirato il riconoscimento in memoria del papà, scomparso durante il periodo di servizio lo scorso giugno. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 21 dicembre. Nella cappella di San Bartolomeo a Cogorno Alta sarà inaugurato il presepe La luce della vita e le tenebre, realizzato dall'Accademia della Ciappa e dei testaieux. La scenografia è ispirata al Vangelo di Giovanni, saranno distribuiti i doni ai bambini presenti. Alle 14.30, al Teatro Ariston di Sestri Levante, musiche natalizie eseguite dall'Orchestra dei Fiati del Liceo Musicale Statale Cardarelli di La Spezia e dal gruppo Ottoni dell'Istituto Comprensivo di Sestri Levante, seguiti da Paolo Gaviglio, dirigerà Paola Angeli. Ultima lezione dell'anno all'Accademia Culturale Rappallese, alle 16.00 nei locali di Villa Quairolo, Nicola Ferrari affronterà la prima parte del tema Musica e Parola. Alle 17.00 nella sede dell'Osservatorio Raffaelli in Via Francolano a Casarza Ligure, serata di presentazione delle attività del gruppo e del rendiconto. Nell'occasione saranno presentate le escursioni e le gite sociali del 2018 e i concorsi per il prossimo anno. Al termine, brindisi e scambio degli auguri. Infine, a Sestri Levante, ma alle ore 21, all'ex convento dell'Annunziata, concerto di Natale per dire no alla guerra, dal titolo Tu chiedilo al vento. La serata è organizzata dall'Istituto Comprensivo De Andrè di Casarza Ligure attraverso il piccolo coro del silenzio Maria Leventre. 60 gli allievi nell'orchestra, 120 gli elementi presenti nel coro. Musica Bene, siamo giunti in conclusione di Telegiornale. Vi lascio all'Emissione Mondo con Diego Dighiero dell'Associazione Medici in Africa. L'appuntamento con l'informazione locale torna domattina alle 7.30 con il buongiorno di Telepace. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.